bella ragazze benvenuti a questo nuovo video Davide Zanetti oggi siamo in un nuovo vlog scusate per la voce una voce da scemo però niente non ho un microfono quindi non si sentirà per niente come vi ho già detto giocherò su FIFA ho anche Clash of Clans però non ho la telecamera uso il tablet per registrare scusatemi un grado freddore intanto notare mio fratello sta guardando la tele lo faccio vedere lo faccio vedere andiamo giù andiamo giù lo faccio vedere lo faccio vedere lo faccio vedere lo faccio vedere io te lo faccio vedere i video i video i video i video che non ho e se vi dimmi su Instagram e ciao ciao